Sono state coinvolte quattro classi per un totale di un'ottantina di ragazzi quest'anno. È stata proprio una partenza un po' sperimentale nell'istituto per vedere qual era la risposta. La risposta dei ragazzi è stata veramente soddisfacente, erano interessati e hanno partecipato a questo ciclo di lezioni in modo molto attivo. A lezioni di educazione civica e legalità, tre banchi di scuola. Le ACLI di Arezzo e l'istituto comprensivo 4 novembre hanno promosso un progetto rivolto ai ragazzi tra la prima e la terza media che sviluppato in 38 ore di lezione è stato orientato a promuovere la conoscenza dei valori fondanti della Costituzione come stimolo per contribuire in futuro alla vita sociale e democratica del territorio. È importante fare quadrato come mondo associativo che tiene la formazione dei cittadini di domani insieme alla scuola delle famiglie e alle parrocchie poter rilanciare e rifare rete per recuperare il terreno perduto in questi anni. Vivere pienamente la cittadinanza è il titolo del percorso ideato e interamente tenuto dal dottor Renzo Gori, specialista in pubblica amministrazione. Siamo partiti esattamente dal congresso di Vienna per arrivare poi all'Unità d'Italia, allo statuto Albertino e da lì abbiamo cominciato poi per arrivare alla nostra Costituzione. La Costituzione è il tema fondamentale, è l'articolo 5 che parla anche degli enti locali, abbiamo parlato quindi del nostro comune e poi di tutto il sistema istituzionale. Ripeteremo il prossimo anno un progetto triennale in modo tale da approfondire perché l'interesse è stato immenso. Io ho visto una classe di prima, la prima B, in silenzio assoluto prendere appunti come se fossero un gioco che non conoscevano, al quale li affascinava però questo gioco. Cuore del progetto sarà infine l'incontro con i rappresentanti delle diverse istituzioni che hanno dato la disponibilità ad incontrare gli alunni il prossimo 31 marzo appuntamento con la senatrice Simona Petrucci poi i giovani potranno conoscere e confrontarsi con il sindaco, la giunta ed alcuni membri del Consiglio Comunale.